In puro stile propagandistico, ultima ora, aspetti salienti dell'apporto mondiale, il 15 novembre 2023 il Comitato del Servizio e il Corpo Direttivo ha annunciato alla famiglia Beta alcuni aspetti salienti del rapporto mondiale. Allora, battezzati, ci sono stati 269.517 battezzati, si tratta di un incremento dell'85% rispetto all'anno di servizio 2022. Studi biblici, in media sono stati tenuti 7.281.212 studi biblici, che rappresentano un aumento del 28,5%. Presenti alla commemorazione, hanno assistito all'evento 20.461.767 persone, quasi 4% in più rispetto all'anno passato, ben 20 Paesi hanno registrato un massimo assoluto. Pionieri regolari, il numero è salito a 1.546.132 con un aumento del 5,5%. Pionieri ausiliari, ci sono stati 738.457 pionieri ausiliari, un aumento di quasi il 94%. Siamo contenti di tutto questo entusiasmo che stanno cercando di trasmettere a fedeli sempre più sfiduciati e dubbiosi, ma è evidente che dopo la pandemia si sarebbe tornati alla normalità. Il numero dei battesimi è aumentato rispetto al crollo dello scorso anno, furono 145.552, il numero più basso degli ultimi 40 anni. Questo si badano bene da non ricordarlo. Molti avranno preferito aspettare la fine della pandemia per battezzarsi, meglio pino a una piscina al congresso che in una vasca da bagno. Gli aumenti dei pionieri poi si giustificano facilmente con il calo delle ore richieste. Una volta per fare i pionieri ausiliari erano richieste 60 ore mensili, adesso ne passano 30, che si riducono a 15 quando c'è la visita del sorvegliante. 15 ore ai vecchi tempi le facevano facilmente quasi tutti i programmatori. Una vera crescita si dovrebbe fare confrontando dati uguali, così si vince facile. I presenti alla commemorazione, che avrebbero avuto un aumento del 4% rispetto all'anno prima, non sono nulla di eccezionale. Lo scorso anno furono 19.721.672, meno 8% rispetto al 2020 e meno 6% rispetto al 2019 pre-pandemia. I 20.461.767 presenti nel 2023 sono meno dei 20.919.041 che ci furono nel 2019. Dovrebbero fare un confronto anche qui con il periodo prima della pandemia, per poter parlare di un reale aumento e diminuzione. E poi c'è da considerare anche la pandemia per tutta quella opera informale, no? Di predicazione, in studi medici, avvocati, tutte quelle situazioni di computazione delle ore che sono venute meno e sono solo un esempio tra varie forme di cui potremmo parlare. Poi si parla di 58 paesi che hanno registrato un massimo storico nel numero dei proclamatori e tutti gli altri paesi, perché in tutto sono 240 i paesi. L'aumento c'è stato solo nei 58 e gli altri non se ne parla. Non si dice che tutti gli altri paesi, fuori da quei 58, non c'è stato affatto aumento, quando non c'è stato comunque un calo. Insomma, tutto questo entusiasmo, sinceramente, non lo vediamo. Tutte queste notizie vanno bene per coloro, per cui basta che il corpo direttivo apra bocca e ci sia a bocca. Ci sarà senz'altro poi un nuovo massimo nel numero dei proclamatori, è chiesto, sarà annunciato in pompa magna, ma anche qui i dati sono falsati dal fatto che sono cambiati i criteri per essere proclamatori. Adesso basta anche che un testimone di Geva durante il mese accendi con la signora della porta accanto a Geva per sentirsi a posto con la coscienza da testimoni di Geva, perché le ultime disposizioni questo permettono di fare. Insomma, tutto questo entusiasmo io sinceramente non lo vedo. In questo modo, anzi, secondo me, si fa sempre leva proprio su una capacità critica ridotta a zero e solo per fare propaganda e Geva, fra virgolette, volute, solo sa quanto la Watchtower in questo momento ne abbia bisogno. Grazie della scuola.